Con la nostra gestione non abbiamo mai voluto far disinnamorare i tifosi che una settimana prima forse la squadra non si iscrive, si iscrive. Noi da questo lato ci abbiamo messo a tutta, poi sicuramente gli errori li facciamo, si faranno ancora, però credo che una società come oggi il Teramo sia tra le prime società italiane di Serie C, non possiamo far sputtanare queste cittadine anche per l'iscrizione. Quindi speriamo di poter fare un campionato bello, un campionato dove ci dobbiamo giocare i playoff e altro fino alla fine, così che noi abbiamo bisogno di calcio. Credo che in questa città, oggi se togliamo il calcio ci sia rimasto ben poco, credo che tutti aspettano il giorno 13, il giorno del ritiro, per poter ritornare a parlare di calcio, perché è l'unica cosa che oggi a Teramo si parli e questo è per merito nostro, per merito dei tifosi e per merito della stamba che comincia di nuovo a parlarne. Io credo che sia merito vostro, questo è merito vostro e quando i meriti ci sono vanno dati. Se ripenso a un anno fa mi vengono i brividi perché voi venite fuori dal campionato più difficile della storia del Teramo Calcio. Non ci guardiamo più indietro, però mi sembra quasi che siamo all'anno zero. Si riparte e basta. Sicuramente vedi tu, noi siamo vicini come età e quindi vai molto al sodo perché quello che dici non fa una piega, quello che dici è tutto vero, quello che dici dopo un anno durissimo. Io ti dico la verità, penso che quest'anno come Presidente mi debba dare un 10, perché quest'anno c'era il rischio grosso, c'era il rischio mio personale, c'era il rischio del Teramo, c'era il rischio totalitario, ma con un grande lavoro, una grande determinazione che forse il Signore ci ha dato e che oggi cominciamo a rivedere la luce. Quindi molte volte qualcosa ti viene tolto ma poi ti viene ridato e a noi ci ha ridato quella forza, quella voglia di non fare brutte figure. E quindi siamo felici che abbiamo riscritto il Teramo, siamo tanto sereni rispetto a un anno fa e tutti insieme dobbiamo difendere quello che ci hanno tolto. Quindi noi lo difenderemo fino all'ultima giornata dell'anno prossimo. Abbiamo preso un grande attaccante, abbiamo preso Croce, quindi Pedrella ce l'abbiamo, noi vorremmo prenderne altri due. Sansovini è uno di quelli, però lì è difficile, ma se non verrà Sansovini sicuramente verrà un'altra punta che ci farà sognare lo stesso. Quindi dobbiamo prendere altri due attaccanti.